do 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 Tessiglone Show News salve a tutti questo vabbè faccio una playlist dedicata a Tessiglone Show News con i nuovi nuovi cartoni che escono non so se lo farò speriamo se prossimamente farò di cartoni che escono su Boeing, su Cartoonito, su tutti i canali, sulle piattaforme, oggi voglio dire una notizia molto bomba, una notizia bomba che sicuramente a voi piacerete questa idea, Cartoon Network contro Jellystone, Crisis on Infinite Myths, allora qua ci sono tutti i personaggi di Jellystone, c'è Ippopotamo, Tattine Pappino, Elkabong, Jeans, Cindi, Yogi, Bubu, si lo so che non so un anno, vabbè, ve lo ricordate la recensione di Jellystone sul che si conosceva stagione 3, Bracobaldo, Jelly, vabbè squaletta, incontrano con la prima la prima immagine ufficiale del finale, episodio finale, la finale di questo cartone, ok, poi arrivano i nuovi episodi di Jellystone su Boeing, non vediamo l'ora di vederli, comunque dai 3 cartoni matti vecchi nostalgici abbiamo le superkick che c'è Lolli, Dolly e Molly, con Mojo Jojo in versione robot, poi c'è anche Dester con il cacciavite, poi c'è anche la sua sorellina Didi, che carina che saluta, e c'è anche Billy e Mandy e Tenebra, speriamo che fanno solo questi 3 personaggi, ma compariranno anche altri personaggi che li hanno annunciati ufficialmente su Cartoon Network, come Hector con Porpetta, Ed e Daddy, Regula Show, Camp Laszlo, non vediamo l'ora se Camp Laszlo facesse un crossover con Jellystone, vabbè non ho visto mai la serie completa di Camp Laszlo, assieme a Nomi Codice Comando Nuovi Diaboli, comunque Adventure Time, Charmware, La Squadra del Tempo, Gli Amici Immaginari Della Casa Forse perché sono insieme con le superkick perché sono due cartoni di Kraken, Mucca e Polo, Johnny Bravo, Samurai Jack, Nomi in Codice Comando Nuovi Diaboli, Benten, What Never Happened to Robo Jones, non so se faranno un crossover in italiano su Robo Jones, non lo so se faranno un crossover in italiano su questo cartone, con Jellystone, ma questo cartone non è mai mandato in onda in italiano, questo cartone che si chiama One Head Appened del Robo Jones, ma lo chiamiamo Robo Jones, Bombit, le meravigliose disavventure di Flashjack e quella scimmia di mio amico, ma speriamo che compariranno anche altri personaggi di Anna Barbera, speriamo, compariranno Leone Cane Fiffone, Gamble, Ai Ai Puffia Miyumi, anche se è un cartone giapponese, poteva comparire lo stesso, deve comparire tutti i cartoni nati della Cartoon Network Raig, Apple e Onion, anche quelli di Norrell, ma su Jellystone usciranno anche quelli, vabbè, usciranno quei cartoni che non sono più in onda, come ad esempio Apple e Onion, i Buffia Miyumi, speriamo, ma gli unici che sono sopravvissuti è il Laboratorio d'Ester, il Camp Lazro, speriamo che faranno anche Squirrel Boy su Jellystone, anche se un cartone in cartonino non lo è, neanche Robot Boy mai. Ma questo, questo, sarà un capolavoro, questo episodio, Cartoon Network, Conto Jellystone, Crisis of Infinite Myths, speriamo che voi lo guarderete e noi ci vediamo al prossimo video di Tessiglone Show News, la nuova rubrica di video del canale originale di Palo Palo New, a presto, ciao ciao, Tessiglone Show News!